Lo sai che è tutta bellissima, ora è difficile scegliere quelle che devo comprare. E va bene, lei guarda. Questa, ecco c'è. Tovaglia. Ah, tovaglia. Quattro. Piccola, quindici, grande, per tanti di sei. Sì. Galletto. Grande vuol dire per quante persone? Per dodici, piccola, sei peccato. Ok, questa è l'esercito, questa è strana. Fiori, ecco, poi fa il pane, bellissima. Quanto costa? Tutte le rosse, tutte le rosse. Quella? Sì. Quella viene 15 euro la piccola e 20 euro la grande, sei persone o 12 persone? E c'è il fiore, galletto, scoiattolo, poi c'è anche altri fiori. E questo qua, a 10, eh? Stende, tutto. Quello deve andare a 10 euro, un pannello grande. Un pannello. Se no, 10 euro, due pannelli più piccoli, quelle di là. Va bene. E' un po' in questo, un po' anche nella cucina, no? Cucina, banano, camere. Quello va bene la cucina, puro cotone. Posso vedere per favore con quella con la scuola? Scriatelo, please. Scriatelo? Per favore, grazie. Ok. Questo è il tuo paglio? Il tuo paglio è quello, quello che vuole fare. Ah, sì. No, però voglio fare il tuo paglio. No, ma vuole vedere il tuo paglio. Ah, ok. E poi l'altro giro. Hai ragione, sì. Ok. 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 questo è il quinto sono i cover di questo è il caso della prima qui sono i besti quindi ci sono molti opzioni l'apaggisimo non sono un po' di mano quindi tutto è l'abbiamo tutto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.